Whatsapp, la famosa applicazione basata sulla messaggistica istantanea, è divenuta ormai covo di truffe e frodi. L'ultima trovata degli hacker, che circola in rete da qualche giorno, è una vera e propria trappola per il nostro smartphone. La frode cibernetica consiste in un invito da parte di un nostro contatto da un numero sconosciuto a provare le nuove emoticon animate, che ricordiamo non esistono su Whatsapp. Il messaggino incriminato recita più o meno così. Bellissime le nuove emoticon, le hai viste? Messaggio seguito da un link, che non va assolutamente aperto, poiché è proprio lì che si nasconde la gabola. Aprire quel link significa infatti dare via libera al virus, che sfruttando lo stesso Whatsapp invia una copia del messaggio a tutti i contatti. Ma non solo, perché successivamente il virus sottoscriverà per voi, in automatico e senza consenso, una serie di servizi a pagamento per cellulari, che esauriranno in poco tempo tutto il credito disponibile. L'immagine dell'ingannevole messaggio o virus è stato diffuso dal profilo Facebook Agente Lisa, il gruppo della Polizia di Stato che avverte, attenti ai virus, i link che arrivano via messaggio o via chat, spesso nascondono dei tranelli o truffe. Non cliccateci sopra, è solo un modo per diffondere virus informatici anche sugli smartphone. Se vi arriva un messaggio del genere, cancellate la chat, così eviterete di cliccare sul link anche per sbaglio. Altro consiglio utile in caso il vostro smartphone fosse stato contagiato dal virus, è contattare il vostro gestore telefonico per assicurarvi che non sia stato attivato nessun servizio a pagamento.